Ieri si è svolta l'assemblea dei ricercatori precari iscritti a NIDIL CGL perché abbiamo voluto condividere con loro il testo della bozza di accordo siglato il 25 ottobre scorso. È un inizio di percorso, si tratta di una prima soluzione, ovviamente non è la soluzione del problema che tutti auspicheremmo, ma dobbiamo tenere presente delle norme che sono in vigore. Il primo fatto molto importante è che si procederà a una stabilizzazione e in quest'anno due lavoratori verranno stabilizzati, nel triennio fino al 2019 altri quattro lavoratori. Per noi è un risultato molto importante dopo anni di vertenza e ricordiamo che i ricercatori precari hanno anche un'anzianità in condizioni di precariato di oltre 20 anni e i buoni risultati che spesso ci vengono raccontati anche dai media, giusto ieri sera si parlava dei buoni risultati che il reparto ematologico ha raggiunto, tanti risultati che permettono al Gaslini di essere l'istituto fiore all'occhiello del nostro paese e anche in Europa passano proprio dalle ricerche di questi lavoratori precari. Quindi per noi rappresenta un primo passo nel cammino di una soluzione che ospichiamo possa essere abbastanza vicino anche per tutti gli altri lavoratori.